In un pomeriggio primaverile, in un picchi silenzioso per la forzata esclusione del pubblico, il Montevarchi torna a casa da Livorno con un punto e molti rimpianti. La squadra di Beoni, in evidente crescita dopo le ultime prove, mette paura ai padroni di casa, le cui ambizioni di promozione dopo questo nuovo pareggio sono ormai sfumate. Nel primo tempo i Rossoblu, al contrario di Piancastagnaio, iniziano con il piglio giusto. Dopo 13 minuti, Bontempi approfitta di un disimpegno errato di Carcani e la sua conclusione non lascia scampo al portiere Facchetti. Chi si attende alla reazione labronica resta deluso perché è sempre il Montevarchi a rendersi pericoloso, mancando più volte il raddoppio per sfortuna o imprecisione nel tiro. Livorno dunque non pervenuto, è il Montevarchi che si rammarica di non avere capitalizzato una supremazia assegnando più di un gol. Nella ripresa si assiste a una partita in parte diversa, con il Livorno che tenta di rimettersi in carreggiata e con un Montevarchi costretto ad arretrare per contenere le folate avversarie, pur rendendosi pericoloso con qualche contropiede. Al 31esimo arriva il pareggio per merito di Cori, che fisse il punteggio sull'1-1, che scontenta sia il Livorno sia il Montevarchi. L'una per il mancato rilancio in classifica, l'altra per la mancata vittoria. Nel dopo partita Beoni parla di giusto atteggiamento, mentre in casa labronica lo stato d'animo del presidente Esciua è la testimonianza di una stagione che doveva essere vincente e che invece finisce nell'indifferenza.